LA LUCE DELL'ESSERE SUPREMO Tutta la luce scaturisce dall'essere supremo. Ma come gli ultimi si chiudono nelle caverne dell'ignoranza e dell'incomprensione, i nostri specchi terreni possono riflettere la luce lì dove non potrebbe penetrare in altro modo. E così l'essere supremo accetta il nostro aiuto e si degna di impiegare nell'opera quella parte di sé manifestata attraverso gli uomini. Grazie a tutti.